Partiti in movimento e singoli personaggi politici continuano a Vittoria ad inviare i comunicati stampo a annunciare sui social netto le scelte relative al ballottaggio di programma il prossimo 19 giugno. Di recente il candidato Francesco Aila ha incassato il sostegno di Piero Gurriere, gran parte la lista Forza Vittoria e del candidato al primo turno Riccardo Terranova. Moscato, che fin dall'inizio aveva detto che non avrebbe fatto apparentemente, continua per la sua strada. Il coordinamento cittadino di patto per Vittoria, attraverso una nota diffusa da Livio Mandara, ha scritto ad entrambi i candidati annunciando che deciderà nei prossimi giorni dopo aver verificato quale parte del programma dei candidati coincide con quello che era il loro progetto. Anche il Movimento 5 Stelle ha annunciato che sceglierà nei prossimi giorni quale candidato sostenere. Sceglieremo, hanno fatto sapere, tenendo conto di tutto quanto ha caratterizzato questi anni di presenza sul territorio e quest'ultimi mesi di campagna elettorale, pensando al bene esclusivo della città. Siamo stati, concludono i grillini, arresteremo dalla parte del cittadino e per questo abbiamo deciso di non lasciarvi da solo al ballottaggio, comunque rifletteremo insieme.